Ciao a tutti, oggi è arrivato il mio microfono Shao Koa, e lo spacchetterò insieme a voi. Oh, ma come si fa? Te lo dice la ste. Ecco qua, allora, è arrivato da Amazon, e nello sui tempi non vi dico nulla perché sapete cosa penso dell'espedizione. Il nome è questo, Shao Koa, come volete, io ignoro la traduzione, me lo sono scritto perché tanto non me lo ricorderò mai. Voilà, ecco, cominciamo bene. Allora, oh, oh, una scatola con dentro una scatola. Ecco qua, l'avevano scritto anche loro perché evidentemente nemmeno loro sanno come si chiamano. Voilà, ecco qua. Allora, abbiamo il microfonino. Uh, ecco. Va che chiccheri. Et voilà. Abbiamo lo doppio spinottino, il jack, la copietta, la cosetta, il doppio cosetto USB, anche i termini tecnici. Poi abbiamo il porta-para-sputazio, e un agile libretto a fisarmonica in inglese, in italiano. Guardate che bravi, ma quante ne sa. Ora, nell'abile spacchettino, che dovrò aprire selvaggiamente, abbiamo il cosetto con gli elastici, bim, 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 bim. Il tripodino, guardate che carino. E il parasputazio. che suppongo abbia un nome più tecnico eccolo qua, in retina quindi questo è il contenuto della scatola parliamo del manualetto questo è in inglese come funzionare al pc ricordiamo che si attacca sia al cellulare che ha il pc o qualunque cosa con usb poi invece di qua ci sono le piccole introduzioni specifiche in inglese, tedesco, italiano ecco ve lo faccio vedere, non so se si legge ecco qua, così vedete tutto in francese e in spagnolo allora, ecco qua il nostro microfonino con la sua levetta on off guardate che carino allora, prima di sbattacchiarlo subito per terra gli metto il cappuccetto poi dovrei far passare il filo di retra qua perché da qui non ci passa che ora è un metro e mezzo di filo vabbè, vediamo di fare in fretta e voilà e inzacchiamo ecco poi il tripoduzzo chiudiamo e si dovrebbe avvitare qua c'è la filettatura poi questo è snodabile fa un po' di scattini quindi dovrebbe essere solido allora, adesso mettiamo il parasputazzetti nella sua cosetta avvitiamolo se ce la posso fare e più o meno ok, così ora dovrebbe infilarsi qui nei buchi no, quindi questa queste robe si svitano allora quindi vediamo se così ci entra se devo levarla tutta allora ok uno due poi le fermiamo alla distanza da cui vogliamo il parà ok ecco qua e voilà direi che è finito guardate che bello guardate che professionale adesso vediamo se funziona allora lo spinottino verde lo vedete è per le cuffie quello rosso è per il microfono quindi zic e ora sperando di non assordarvi lo inzicco nel c'è ecco qua brava brava un due tre un due tre prova prova e attacchiamo questa alla usb del pc e voilà è accesa la lucina e via e voilà funziona e via spero vi sia stata utile ci sentiamo alla prossima ciao 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 ... ... ...